Vedrò a te come fare l'unpacking dell'instrumento e il primo iniziale set up del Galileo 2500. Grazie a te. Vedrò a te come unpacker il CK2500 quando si arriva e lo prendete dalla box. La prima cosa è che non lo spaventate. Prima devi ridurre le due scuole che facciano il fixamento per la trasportazione. Ok? Questi due scuole sono in questa posizione. Uno qui, uno qui e l'altro qui. Quindi, sicuramente di scuole queste due scuole. Quando scuole lo scuole, poi è ok. Passi al secondo punto. Il secondo punto sarà di montare questa piccola bar sul lato. Nella macchina, con tre scuole provvedibili. Questa bar non è montata perchè avverrà la prima scuola del fixamento. Ok? Quindi monti questa bar. Quando hai montato quella, poi hai il terzo punto, che è l'ultimo. che è l'ultimo. E' per montare la bagnata, quella parte, con due scuole provvedibili. Questo è molto facile da fare. Ok? Una volta che hai fatto l'unpackamento, la tavola ora è libera di muovere. Poi puoi poterciare l'intervento. Per poterciare l'intervento, puoi poterciare l'intervento, il jack. E puoi poterciare. Quando puoi poterciare, la macchina fa l'intervento del verticale e la piazza. Quindi vedete, questa è la situazione. Ma probabilmente non hai la tavola nel centro. Quindi puoi poterciare l'intervento. Quindi puoi poterciare l'intervento. E poi, diciamo, facciamo una calibrazione di scuola, come la prima cosa da fare. In modo che quando puoi toccare con il vostro punto, sei esattamente nel punto giusto. Quindi puoi seguire l'intervento. Poi puoi poterciare tre volte sull'intervento. So the second point of the half arrow, then of the point of the down-left-down arrow. Three times, try to be precise. And three times there. And then you are ok. Now at that point, when you touch the screen, you are cent הג ol' icon you want to press. Needle calibration, so pressel mantenils, Needle calibration. A questo punto il sistema prepara il dono del dono Vedete non è centrato, questo è il centro del stagio e questo è il dono Quindi abbiamo un displacimento Per salvare il problema facciamo un joystick e muoviamo il stagio fino a che sia centrato con il dono Ora è centrato, quindi pressiamo back poi pressiamo next Quindi il sistema prepara per usare l'altro nodo, il nodo del recipient Se necessitati facciamo un piccolo aggiornamento Ok? Ora siamo ok, facciamo back e facciamo un joystick Facciamo un joystick e poi abbiamo zero la posizione della tavola Vedete che il x è un po' displacente, minus 6 quindi facciamo zero A questo punto quella posizione della tavola sarà definita come la posizione zero Ok? Ok? Ora ho spiegato a te la prima cosa che devi fare quando la macchina è pronta devi montare il nodo, no? Questi sono già montati Questo sistema è un po' pertinente in una vecchia, diciamo, di design della macchina hai un po' pertinente quindi segui il manuale per fare l'insertione della tavola ma in ogni caso è davvero facile non hai bisogno di un screwdriver non hai bisogno di nessun strumento facciamo con la mano Quando i nodi sono in posizione il membro del recipient resta sulla right poi hai bisogno di montare il blocco per, diciamo, montare il blocco facciamo in questo modo tu pressi la chiave la chiave della posizione 1-2-1 poi inserisci il blocco e rilasci possiamo fare ancora la stessa cosa con l'altra e rilasci puoi fare la stessa per tutte le 6 posizioni Una volta che hai montato il blocco che pensi che vuoi usare poi puoi proseguire al prossimo passo e ti segui il video che Andrea aveva preparato per te che racconta la completa funzionalità dell'instrumento